ah finalmente al cinema non vedevo l'ora di vedere finalmente l'attacco dei dinosauri si proprio così ma 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 che cavolo è successo ma hanno rovesciato tutte le bibite ciao a tutti roblox giocatori bentornatissimi qui è il vostro carissimo amico bella faccia e oggi finalmente andiamo al cinema di roblox che è qua l'egitto l'antico egitto ragazzi il risveglio della mummia e anche questo lo vorrei vedere non lo so voi cosa mi consigliate ok mamma mia ma guardate per andare al cinema che cosa mi tocca fare chi è che ha rovesciato tutta questa coca cola mamma mia eccoci qua ma c'è sempre la fila permesso scusate scusate ah posso passare qua allora vediamo no ragazzi io volevo andare a vedere il ritorno della mummia poi che cosa c'è la casa infestata Teddy l'assassino la scimmia devo andare per forza uffa devo andare a vedere per forza l'attacco dei t-rex salve un biglietto per uno grazie ok il film inizia fra tre minuti ragazzi bisogna muoversi fantastico Steve è il mio amico eh sì l'ho invitato io non fateci caso ok fantastico Steve non facciamo tardi ma che cavolo ma ma ci sono le persone che puliscono in questo cinema scusa i popcorn i popcorn ti stai dai popcorn popcorn come cavolo faccio ad arrivare là oh che cavolo non posso vabbè andrò nella pausa dopo il film ok piano ma chi è che ha rovesciato tutta questa chewing gum qua per terra no ragazzi guardate no qui c'era la casa infestata che cavolo volevo entrare poi di qua che cosa c'è ok checkpoint vediamo l'oceano no vabbè un mostro marino che attacca la nave era anche in 3d ecco fantastico perfetto devo stare attento addirittura agli occhialini in 3d perché fanno male ma perché non posso vedere un film in 3d ragazzi ok questo è chiuso fantastico l'attacco dei dinosauri sì ok ci siamo eccoci ok io voglio una soda voglio una soda eh vabbè ma pure qui bisogna scioppare ma chi ha rovesciato i popcorn ragazzi mi raccomando non buttate mai per terra le cose al cinema perché dopo bella faccia le calpesta ecco ok 1 1 2 attento a non pigliare i popcorn ma guarda oh mio dio guardate il burro fuso che esce dai popcorn ehi steve hai trovato il posto allora vediamo siamo la fila che fila siamo quella ok dai andiamo va oh porca miseria il film sta per partire ho 7 secondi cavolo 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 devo muovermi ehi amico sei seduto al mio posto amico amico ecco qua l'isola dei dinosauri wow oh mamma ragazzi questo film è una bomba oh è scivolato il tizio oh no poverino oh mio dio non vorrei essere lui in questo momento ok c'è il tesoro lì io comunque sia non ho i miei popcorn mica è giusta sta cosa eh oh mamma sta per eruttare il vulcano un t-rex gigante ma stiamo scherzando corri amico corri ma che cavolo è successo il dinosauro ha rotto oh mio dio oh no oh no ma ci ha manzato steve 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 ehi tutto ok bella faccia il dinosauro ci ha manzato è uscito fuori dal film eh l'ho visto l'ho visto steve non ti preoccupare eh cioè non ti preoccupare un cavolo ci ha manzati non ci posso credere ma allora questo film è altro che in 3d questo film è reale ma beccati questo ah beccati questa maledetta ugola del dinosauro sto arrivando oh mio dio eh ok di no sono qui venuto a vedere il film però ah ecco fantastico non vedevo l'ora di di annegare nel liquido di dinosauro forse devo andare qua di qua ok fantastico bella faccia continua così ma guardate io volevo guardarmi un film in santa pazza ragazzi con i miei popcorn e uno non ho preso i popcorn due sono dentro lo stomaco di un dinosauro non vedevo l'ora che schifo sta digerendo tutto oh mio dio no questo qui ragazzi era il tizio che dava i ticket non ci posso credere una mela al giorno toglie il dinosauro di torno per me no no io mi rifiuto io mi rifiuto di uscire sempre dallo stesso posto no che schifo dal sederino del dinosauro che schifo no 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 che schifo che schifo che schifo via arrivederci non ci posso credere ragazzi guardate siamo proprio entrati dentro il film e questo qui il protagonista un autografo per favore un autografo steve calmati ok allora il dinosauro che era entrato prima nella sala del cinema è qui poverino guardate guardate è rovesciato e noi dobbiamo andare avanti attraverso le banane spiaccicate proprio così perché ci sono delle scimmie che invece di manzare le banane le buttano per terra male le banane non si sprecano maledette scimmie avete capito le banane sono buone ok andiamo avanti no ci sono loro gli elefanti ok posso passare passo adesso ok vai vai oh mio dio no è ma guardate sono entrato proprio dentro un film il mio sogno di diventare una star finalmente si è avverato i popotami eccomi qua scusate se vi passo sopra fantastico ok devo stare attento al ponte perché ci sono i coccodrilli questo qui è il film di indiana jones ve lo dico io indiana jones con i dinosauri però si eccoci ok dove dobbiamo andare devo passare di qua super velocità pensavo che solo nei film si potessero fare queste cose ragazzi steve tutto ok e vabbè ma allora quel dinosauro ha un po di problemi oh mamma il portale per tornare nel mondo reale dobbiamo muoverci steve dobbiamo muoverci per prenderlo non voglio restare qua steve muoviamoci sì sì ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta siamo sotto i riflettori wow siamo proprio dove girano il film guardate ragazzi stanno girando oh ma lì è tutto rotto quel dinosauro proprio spaccato tutto ok stiamo tornando a vedere il film te l'aveva detto steve che dovevamo guardare la casa infestata tu non volevi credermi no andiamo a vedere i dinosauri che è meglio è meglio eh te lo do io il meglio siamo entrati dentro il film che cosa succede adesso steve steve non voltarti c'è il proprietario del cinema che si sta guardando male perché avevo chiesto il rimborso ma non se lo vogliono dare dammi il rimborso hai capito non mi è piaciuto per niente questo film non vi darò mai il rimborso maledetti stupidi e ce lo devi dare hai capito adesso faccio una recensione orribile ma ci sono i pop corn qua e porca miseria comunque il tuo stramaledetto cinema fa schifo si te lo do io la risata ok dai muoviamoci per la faccia muoviti muoviti ecco fantastico ho preso i pop corn al burro mamma mia i pop corn al burro i pop corn al burro fanno malissimo ma guardate pop corn pop corn ecco lo sapevo dove devo andare non so da dove devo passare porca miseria questi pop corn fanno male e che cavolo bella faccia forza su allora io passo di qua ok uno e una due e una tre quattro si se l'ho fatta la faccia tua andiamo che è qua non ci posso credere finalmente il film dell'oceano con il mostro che bello un altro film o no anche questo mi sa che è malvagio oh che cavolo sta succedendo qua ci sono i poliziotti no eh abbiamo pagato il biglietto l'abbiamo pagato per piacere steve porca miseria vuoi entrare nel portale ti avevo detto di pagare il biglietto guarda dove ci siamo cacciati eh ascoltate ragazzi c'è c'è potrebbe esserci una via ciao ci vediamo stupidi via ok oh mamma steve ma dove cavolo siamo nel film del mostro marino oh cavolacci forse questo è ancora peggio dei dinosauri eh guarda quella povera nave steve io non voglio più venire in questo cinema hai capito anche se è bello tutti dicono che è fantastico ci sono addirittura i granchi attenzione mamma mia i granchi grossi come me attenzione via 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 questi cavolo di granchi ecco fantastico mi hanno rosicchiato il piede ma guarda un po attenzione ai granchi attenzione ai granchi attenzione ai granchi attenzione ai granchi steve dobbiamo muoversi voglio andare a casa ok andiamocene via ok fantastico dobbiamo saltare sopra i delfini ma mi prendete in giro senti amico io non dovrei essere qua non sono né una comparsa né un attore vabbè lasciamo perdere andiamo forza sopra i delfini sopra i delfini non sotto porca miseria bella faccia e che cavolo salta ho capito che è un film salta e salta si no sopra le meduse ok se si salta sopra le meduse ragazzi non non pizzicano perché le meduse ti fanno male se li prendi se le prendi nei tentacoli lo sapevate questo ok il portale steve dobbiamo muoverci andiamo forza bella faccia bisogna muoversi andiamo sto arrivando steve no non nel portale del ritorno alla mummia no 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 non voglio andare lì non voglio andare lì dobbiamo muoversi bella faccia ciao amico grazie di tutto il tuo film era un po uno schifo eh no volevo dire bello ciao ci vediamo oh mio dio ma dove siamo finiti steve e ci deve essere un equivoco io ho pagato il soggetto per i dinosauri steve ma dove cavolo mi hai portato io non uscirò mai più con te ma guarda un po il faraone ci odia faraone ti prego non farci del male portateli alle segrete ma non ci penso neanche a rivederci oh mio dio oh mio dio i serpenti dell'antico egitto il ritorno della mummia dovevo proprio finire qua oh mamma la mummia non ci posso credere ok devo dire questo cinema è wow però è veramente orribile essere qua dentro ai film ragazzi oh porca miseria mummia mummia arrivederci mummia posso passare posso passare addio mummia ok ce l'abbiamo fatta via steve me ne voglio assolutamente andare ragazzi ma l'altro film era la casa stregata io sono un fifone non voglio andare là ma che è qua alt non potete passare immaginavo testa di gatto per favore aiutaci miau miau vabbè lasciamo perdere vieni steve muoviti attento alle rane attento alle rane hai capito le rane che chiedono dei mi piace non si è mai visto sta cosa in caso lasciatelo ragazzi un bel mi piace eccoci muoviti steve ma dove porca miseria siamo finiti oh mio dio ci sono le statue con delle asce giganti dobbiamo muoversi dobbiamo muoversi una forza forza andiamo andiamo continuiamo così continuiamo così avanti 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 tutta oh mio dio le statue dell'antico agito fanno un sacco paura ci siamo l'ultima eccoci oh mamma che succede qua prendeteli hanno rubato tutti i miei popcorn oh mio dio guarda un altro portale steve dobbiamo andarsene di qui via 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 steve arrivederci vi puzza di piedi ahahah andiamo se l'abbiamo fatta steve 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 avete visto steve oh 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 avete visto steve non si può guardare il film non si può guardare il film dove cavolo devo andare muoversi muoversi devo uscire dobbiamo uscire devo raccontare tutti i miei amici di questa incredibile vicenda che è successa oggi ok muoviamoci ma che cavolo hanno rovesciato tutto qua no hanno rotto gli occhiali in 3d eccoci eccoci steve eccoti sei qui oh mio dio il manager arrendetevi non ci arrenderemo mai maledetto brufoloso muoviti steve entriamo qua dentro ma che cavolo è sta roba oh mamma mia attenzione le cose congelate non voglio diventare un surgelato oh c'è il ghiaccio qua piano piano steve sei dietro di me non sto guardando oh mio zio c'è qua oh che cavolo zio ok ok hot dog hot dog oh guardate dove siamo no ma qui tutto sporco ma è possibile che sto cinema sia così sporco eccoci sto arrivando state tranquilli che esco di qui eh oh mio dio ma è tutto sporchissimo guardate i wustel per terra le patatine fritte così ma io me le do morso eh ok eccoci muoviti muoviti eccolo eccolo siamo qua da che parte da che parte eccoci steve sto arrivando ok andiamo là sopra forza muoviti 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 seguimi salta qua sopra ok qua ci sono le ventole da che parte oh mamma è uno stramaledetto labirinto questo steve è una stramaledetto labirinto dove dobbiamo andare non mi dire che ho già trovato l'uscita oh cavolazzo sono dove fanno i ticket eh non fateci caso no non sto rubando i ticket no assolutamente io rubo i ticket no assolutamente ok serve un codice serve un codice per aprire la cassaforte steve ma perché dobbiamo rubare tutti i film steve si dia il caso che io sono un genio ho visto il codice il codice è co è scritto lì dove dove va messo il codice il codice il codice il codice va inserito il codice c 0 d 3 c 0 t 3 c 0 t 3 te l'ho detto steve dove cavolo si deve mettere io non lo so eccolo steve l'ho preso magari anche una pista ci servirebbe entriamo eccoci eccoci oh fantastico se appena sono entrato mi hanno trafitto tutto l'oro di tutte le persone che vengono a guardare i film tutti i loro soldi ecco dove finiscono ma adesso questi stramaledetti film ce la pagheranno perché freghiamo tutti i soldi che hanno preso con tutti questi film oh mamma quanti soldi che ci sono che bello steve ma possiamo prendere qualcosa invece che scappare io volevo diventare milionario andiamocene via forza ma da che parte si esce forza usciamo di qui steve come cavolo andiamo forza eccoci libertà steve seguimi mi raccomando perché sicuramente quel super cattivo ancora qua nei dintorni eh oh mamma che cavolo è dietro di noi attento c'è un'arma c'è un coltello muoviti steve corri salta no non proprio così che cosa ehi svegliati il film è finito mi stai prendendo in giro steve che cosa vuol dire che ho dormito tutto il tempo mi stai prendendo in giro come il film è stato fantastico volevo vederlo anch'io ma dai che fantastica giornata che fantastica giornata anche se me la sono dormita tutto il tempo steve spero che almeno tutti sia divertito con il film no era tutto un sogno andiamo al parco corriamo al parco era tutto un sogno non ci posso credere steve sto arrivando non ci credo ho dormito tutto il tempo ragazzi allora era solo un sogno era solo un sogno eccoci sì e voi abbiamo vinto ma come hai vinto sì vabbè sei partito prima cioè facile così yes abbiamo finito tutto ragazzi fantastico spero che il video vi sia piaciuto io ho sognato e non ho visto il film spero che voi l'abbiate visto da me da steve è tutto e ci vediamo presto in un nuovo fantastico video di roblox ciao ciao